Il padule di Fucecchio, l'area protetta, richiede un'attenzione molto maggiore e non è possibile assolutamente arrivare a punti ai quali siamo arrivati. I punti a cui fa riferimento Claudio Profeti dell'Associazione Amici del Padule di Fucecchio sono quelli che hanno costretto il centro di ricerche a chiudere l'accesso all'osservatorio faunistico delle Morette. La passerella in legno, che ne consente l'accesso infatti non più praticabile per alcune assi ormai rotte, marcite dal tempo, hanno ceduto. La denuncia arriva anche per le condizioni in cui verte l'osservatorio faunistico dell'area a Righetti. Anche qui la passerella è impraticabile da tempo, tanto che le visite sono state sospese da oltre un anno. L'accesso poi al centro visite di Castelmartini, prosegue la denuncia dell'Associazione, è reso possibile solo grazie agli interventi di manutenzione dei volontari che la scorsa estate hanno sostituito una quindicina di tavole della rampa in legno che conduce al centro. Quello che ci stupisce è che il consorzio, che solo recentemente ha terminato di effettuare lavori in un progetto che è stato finanziato per milioni di euro, non abbia avuto né il tempo né i pochi euro necessari per effettuare anche queste attività di restauro. Secondo quanto riporta una lettera della Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore, Tutela della Natura e del Mare, inviata al Centro di Ricerche in merito alle criticità segnalate, un protocollo del 21 aprile di quest'anno autorizza il Centro di Ricerca ad utilizzare i locali del Centro Visite e dell'Osservatorio Casa del Biagiotti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, precisando che tra le altre cose sono a carico del Centro tutti gli oneri inerenti locali in uso, compresa la manutenzione ordinaria. Lo scorso primo ottobre è stata firmata una convenzione fra la Regione Toscana e i comuni rivieraschi del Padulio di Fuscecchio, ovvero Altopascio, Larciano, Ponte Bugianese, Fuscecchio, Cerreto Guidi, Chiesino Zanese, Piae Vagnevole, Monsumano Terme e Lamporecchio e dal Consorzio 4 Basso Valdarno. Sono già stati individuati i contributi da parte della Regione per il periodo 2020-2021, tra gli altri sono stati assegnati 6.000 euro al Comune di Ponte Bugianese e 30.000 euro al Comune di Larciano. Pochi per la verità a fronte dei 60.000 euro preventivati dal Comune di Larciano per un'adeguata ristrutturazione dell'intero edificio. Dal 1 gennaio 2021 cosa succede? Noi siamo obbligati per legge a dover fare una manifestazione di interesse, ovviamente rivolta a coloro che hanno le finalità della tutela, della valorizzazione della riserva e quindi del Padule stesso. Altre risorse dovrebbero comunque essere stanziate dalla Regione Toscana a partire dal 2021. Resta ora da vedere chi sarà il nuovo referente designato dal nuovo governatore della Toscana, Eugenio Gianni.